Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo Yon e Do che spazia dalla complessità delle relazioni familiari alla natura dell'oscurità che può annidarsi sia nella mente umana che nel mondo esterno con elementi di mistero, psicologia e soprannaturale. La trama del libro Cobalto, della scrittrice Rosa Ventrella, pubblicato dalla casa editrice Giunti, è la seguente. È da quando Giulie e la sua famiglia si sono trasferite a Seattle che sua sorella Alice è preda di inquietanti episodi. C'è chi parla di schizofrenia, chi di possessione, chi di magia. È uno sprofondare nell'incubo lento e inesorabile, che risucchia le vite di tutti i protagonisti. Così, mentre i genitori delle ragazze sembrano allontanarsi ogni giorno di più, Giulie è invilico tra il credere e il non credere. Tra l'incondizionato amore verso Alice e il timore di scoprire una verità diversa da quella che pensava. Gli unici spiragli di luce sembrano essere Anne, la sua migliore amica, nonna Beth, con il suo cottage nel verde delle montagne, e Adam, il misterioso ragazzo che vive come un'eremita tra i monti. Ma, come nelle famiglie possono annidarsi i segreti più oscuri, così nel bosco può celarsi il male. Una trama avvincente che conduce il lettore nei più bui abissi della mente, lasciandolo con il fiato sospeso sino all'ultima pagina. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterari e iscriviti al canale.